andiamo in game finalmente quindi siamo pronti eccoci qua ancora l'anno persa malissimo questo non ve lo dovevi dire comunque ho visto il quinto giocatore per quanto riguarda le manguste quindi dovremmo avere una parità numerica adesso vediamo se la squadra appunto blu perché penso che siano blu adesso le manguste bravo esatto hai centrato in pieno il punto perché effettivamente avendo il diritto di scelta stavolta i ragazzi della nostra region forse avranno deciso di iniziare in difesa piuttosto che in attacco quindi insomma potrebbero essersi invertiti ruoli arriva qui un ban molto molto virato per la mappa specifica maverick maverick riesce a essere un counter devastante per alcune situazioni difensive che si vanno creando su club house in particolare quindi andarlo a togliere significa rafforzare notevolmente la difesa ed è curioso che lo abbiano scelto proprio la squadra in attacco quindi quasi assecarsi le gambe da soli ora c'è sicuramente una logica dietro voglio vedere poi chiaramente le difese anche appunto della squadra blu che credo appunto ribadiamo potrebbero essere appunto problemi anguste montagne in generale comunque invece una sempre bannato si molto gettonato perché comunque montagna riesce a permettere un fast plant attraverso ovviamente la sua copertura un uomo porta praticamente riesce un muro che si muove mi riesce veramente essere molto valido a livello strategico soprattutto in alcuni siti in particolare arriva qui anche un'altra raggiunta molto interessante caid proprio per voler limitare un pochino anche la capacità difensiva visto che l'attacco è stato letteralmente storpiato mozzato letteralmente in alcune sue caratteristiche chiaramente bisogna togliere qualcosina anche alla difesa se no la mappa è troppo sbilanciata è nelle in difesa proprio come avevo detto benissimo quindi abbiamo intuito perfettamente che c'è stato ci sia stato appunto il cambio di ruolo a questo punto la squadra appunto notoriosi legion giocherà in arancione per per questa seconda mappa vincente sul primo match ma deve confermarsi sulla seconda colori invertiti ed entra job up che è il quinto appunto probabilmente la riserva in questo caso dopo il ban da parte del playstation network del giocatore delle mangusta adesso quanto meno vedremo un 5 contro 5 speriamo fino alla fine non ci siano altri imprevisti comunque la mappa è club house l'abbiamo già detto mi dovevi parlare di questa mappa non me n'hai parlato a sufficienza a questo punto in questa fase preparatoria e 30 secondi per esprimerti allora innanzitutto possiamo notare un unico sito difensivo nel piano più interrato appunto cappella arsenale cappella arsenale di solito in un'altra epoca era letteralmente il sito di riferimento per ogni per ogni squadra tuttavia nel corso del tempo si è andata un po' evolvendo questa meccanica ora anche che esce cctv che è un altro chiaramente sito particolarmente aggettonabile riesce ad essere molto molto apprezzato probabilmente sarà la seconda difesa del notorio di regione qualora questo venisse a rivelarsi vincente sono sicuramente una condizione molto forte guarda un po che cosa ti vanno a prendere in notorio di region e la che credo proprio sia equipaggiato di fucile a pompa anche se chiaramente non è stata ancora inquadrata una operatrice che serve proprio per coprire evidentemente le scale main che sono uno dei punti fondamentali di questa difesa andare a toglierla di mezzo è obiettivo principale per le manguste su questa prima istanza di game sarà fondamentale toglierla subito dai giochi manguste un po sul chi va là sembrerebbe hanno paura di qualche romer in giro per la mappa ma in realtà appunto come possiamo notare era proprio parcheggiata sulle scale vuole aspettare l'occasione per uccidere qualche avversario non credo ci sia neanche un giocatore in roaming in realtà inquadrato in questo momento alla guida di IQ e tra l'altro clubhouse per il roaming non è che sia proprio la mappa migliore del mondo non lascia molto spazio per rotazioni varie soprattutto per questo sito al piano più interrato dove di fatto uscire fuori dal sito significa percorrere delle strade molto anguste dei corridoi molto stretti e quindi rischiare seriamente di rimetterci le penne in corso d'opera ricordiamo che tutte le porte non corazzate quelle che hanno semplicemente queste barriere di legno sono distruggibili da tre colpi di corpo a corpo che in fondo è il modo probabilmente più gettonato per aprirle 1 minuto e 30 sul timer ancora squadre a uomini inviolati quindi nessun frag è stato effettuato e chiaramente il tempo scorre questo è tutto a vantaggio dei notorious legion che stanno difendendo la mappa manguste che invece stanno attaccando che però si stanno avvicinando sempre di più al sito che probabilmente vogliono adesso Jopap il nuovo entrato inquadrato proprio lì lo sta guardando e lo fragga e dove non può che è? è sempre lui HS millimetrico è proprio forte ricordo tra l'altro che il gioco ha un time to kill davvero molto basso cioè due colpi e sei fuori qui bruttissima giocata da parte di Pedro si è distratto evidentemente forse appunto dalla morte del compagno recente un round che le manguste forse stanno buttando letteralmente via dopo la prima morte arrivata in maniera per poi tra l'altro forse skill anche da parte del giocatore avversario la vittoria è tagliatissima arriva il primo frag delle manguste e ispore su bad boy ma poi not dark di nuovo a effettuare il trade ancora pappa che però porta un po' di ossigeno a questa situazione due contro tre con dieci secondi dalla fine del round però arriva il plant del defuser adesso insomma troppo troppo tardi non avevano tempo e Simo si va a far fuori sia salvo che il giocatore appunto che stava cercando di mettere a terra il defuser 1 a 0 Notorious Legion una difesa per ora buona qualcuno di loro lo ricordo con un altro nome per esempio appunto c'è il ragazzo qui appunto il buon Simo che in realtà in un'altra epoca si chiamava Simame infatti io lo conosco e lo ricordo ancora come Simame c'è anche il buon Pedru che in realtà una volta si chiamava Pedrusca poi essendo entrato nell'organizzazione delle manguste doveva accorciare probabilmente il nome aveva meno spazio quindi ho deciso per Pedru e basta però insomma io in chat lo ritrovo ancora come Pedrusca insomma ci sono stati tanti cambiamenti di nome chiaramente per l'entrata nelle organizzazioni perché questi ragazzi si sono qualificati attraverso delle open qualifiers non tutti perché qualcuno è stato anche invitato tipo i Notorious Legion che hanno avuto un invito diretto però appunto le manguste si sono dedicate beh i Notorious Legion sono considerate che nonostante io non segua il mondo console del diciamo esport console così da vicino sono un nome che conosco quindi sono uno dei team probabilmente più storici su console che partecipano a tornei di videogiochi da un sacco di tempo quindi hanno anche una certa ecco non solo storia ma nomea sono conosciuti quindi evidentemente hanno beneficiato di questo invito diretto attenzione perché qui arriva una sorpresa interessante della Torne Notorious Legion propongono una seconda difesa non in CacheCCTV ma Master Bedroom e palestra insomma il mio sito è preferito per forza di cose no Simo? vabbè questa era la battuta di Felice chiedo scusa alla chat Felice anzi faceva ridere che mi è arrivata dopo ci è voluto un po' per capirla no è che non penso mai che un caster mio collega possa essere anche mister universo posso arrivare così in basso allo stesso tempo no no assolutamente invece è proprio così lo ricordiamo insomma uno degli hobby di Eddie è il bodybuilding si può dire no? si può dire no no credo no no si può dire allora possiamo notare che comunque le manguste sembrano essere molto preparate ora che hanno chiaramente l'opportunità di poter giocare in 4 stiano cercando di utilizzare tutte le risorse a disposizione per riuscire a portarsi alla breccia del muro ad ovest ci sono anche riusciti perché non ha potuto negare la breccia l'avversario bravi nella combinazione delle utility avrei visto anche un po' qui l'utilizzo di Zofia Zofia, Zofia Trick però bravi comunque con l'alternativa questo capitale tra l'altro breccia che arriva a meno di due minuti quindi comunque adesso qua però fa un errore il giocatore delle manguste Jopap perché si espone lui sapeva che c'era qualcuno perché ha cominciato a mirare quindi se immagini che ci sia qualcuno là dietro allora devi essere tu ad aspettare la mossa avversaria perché se la fai chiaramente sei facile a bersaglio e infatti è andata proprio così 4 contro 5 1.36 sul timer manca quindi abbastanza Dark e Pedro si scambiano cortesie quindi in una situazione di 3 contro 4 con uno dei giocatori di Notorious Legion molto ferito quindi i manguste che effettivamente adesso possono continuare nel loro attacco con un po' di speranza in più vanno a cercare ogni angolo come potete vedere Pedro ora va a cercare informazioni col suo drone è importantissimo il drone importantissimo più che altro le informazioni in questo gioco perché davvero sapere dove si trovano gli avversari è fondamentale Claymore affermare probabilmente un'eventuale rotazione successiva qui attenzione perché lo scontro c'era salvo aveva visto l'uomo non aveva però capito dove era era proprio sdraiato lì vicino una reazione e un riflesso davvero ottimo anche su Simo ma come ha fatto a uccidere Simo incredibile dei colpi volanti effettivamente sono andati qui la Claymore ha avuto effetto la Claymore di salvo proprio su quella rotazione che avevo pronosticato precedentemente e gli assalitori vanno a vincere il round che gli mangusti è uno notorio sligion uno bene ottimo eh sì qui mi viene una battuta un'altra battuta infelice e vabbè ma se me la se tu me la lanci così e poi mi dici che è infelice me la devi anche fare io non è che ti posso dire è che salvo ha salvato la situazione ma a me fanno ridere tutte le due battute il problema infatti non sono le due battute infelice il problema è che io rido e che continuerò a farlo vuol dire che va bene vuol dire che sono buone vuol dire che sono buone battute e niente da fare ok ecco di nuovo la composition dei due team c'è qualcosa di nuovo che è un bandit no c'era anche prima ecco c'era anche prima e ho cercato di bussare le cariche asodermiche anche se non c'è riuscito il buon Simo bella la scelta di capitano mi sta piacendo da parte delle manguste forse però sfruttano anche un pochino la mossa da una parte coraggiosa del notorioso region da una parte anche forse un po' incosciente di andare a difendere in un sito un po' meno solido rispetto a cash CCTV come puoi notare infatti subito ci ripensano ok forse per quanto possa piacere a Eddie la palestra magari evitiamola per un pochino andiamo su altri siti prima o poi la devono difendere però adesso no perché l'hanno già persa perché anche vincendo questo round a questo punto possono tornare giù il parametro di rotazione obiettivo gli permetterebbe a questo punto di tornare anche il cappellarsenale dal prossimo round dunque poter variare poi certo vincessero adesso e vincessero anche di nuovo cappellarsenale a quel punto per forza di cose l'alternativa sarebbe magazzino bar e magazzino difesa che finora non l'abbiamo ancora mai visto ma che in genere non viene giocata praticamente da nessuno perché non piace perché è troppo debole forse una delle più deboli del gioco in generale a livello competitivo vabbè cavolo ti sei risposto non piace non piace purtroppo non piace ci sta che non piace insomma è vero è vero è vero è vero anche perché insomma è veramente semplice da attaccare con questa nuova filosofia di gioco qui invece è molto molto interessante questa è forse una delle difese che permette un'idea in generale nel gioco tanto è vero che infatti è per questo che viene particolarmente apprezzata dai caster perché c'è tanto da dire c'è tanto da dire su questa zona di garage che è in genere fulcro dell'azione c'è spesso un giocatore sulla passerella alta di garage in questo caso anche appunto non ci si smentisce non so chi sia il giocatore di Notorious Legion con un maestro ma è sicuramente lui appunto l'uomo su catwalk viene definita in gergo tecnico quella zona appunto la passerella di garage va tolto di mezzo e da qui la scelta di voler giocare sempre con le frecce di Capitao in prospettiva chiaramente di togliere di mezzo velocemente questo giocatore e magari rispondere ad eventuali soluzioni alternative le frecce di Capitao che come puoi notare qui vengono utilizzate anche per permettere la breccia più facilmente quindi una lettura leggermente diversa dell'operatore da quello che siamo magari abituati e anche mi sembra poi chiaramente ripeto continuo a ripetere che sono ignorante in materia le frecce di Capitao bloccano anche l'accesso a determinati punti grazie al fuoco ti feriscono ti fanno molto male un pochino di tempo lo perdi qui attenzione perché c'è un'azione delle Manguste e Sport davvero perfetta non perdono neanche un uomo e si portano sul 5 contro 2 a livello di uomini Jopap poi fa 5 contro 1 adesso il clutch per Bad Boy è di quelli da Mission Impossible andiamo a vedere se ha le sembianze di Tom Cruise no flawless flawless round niente da fare finisce male questa difesa per Briciola e compagnia ma forse proprio un po' di responsabilità di questo round andando male è da attribuire a Briciola che perde il controllo di garage in un secondo momento per una svista personale e da lì in poi il round precipita perché gli avversari chiudono a tenaglia sul sito di CCTV e semplicemente fanno il bello e il cattivo tempo non riescono ad essere minimamente intaccati dai propri avversari in un po' si perde un po' qui c'è un leggero scivolone si vede che è la mappa delle Manguste su tante cose la consapevolezza del sito in generale pur essendo in attacco a saperlo attaccare molto bene ma secondo me le Manguste se lo sapranno giocare bene anche in difesa questo sito soprattutto questo qui di CashSCTV ora chiaramente l'unica grande esperanza di Denodorus è quella di portarsi a casa quanti più round possibili attraverso le difese più buone appunto di nuovo Cappella Arsenale ci stanno provando però il problema è che qui la mappa sembra essere proprio letteralmente in mano alle Manguste e forse ci avevi visto bene all'inizio Erosimo continuo a dire qualcosa di e-sport ogni tanto ogni tanto ma solo ogni tanto tra l'altro ti volevo fare una domanda che è una domanda veramente da Nub quindi probabilmente ai nostri spettatori non interesserà perché sono tutti giocatori esperti che vengono a seguire i nostri tornei che ovviamente come al solito ringrazio tanto per il supporto ma quanto è importante anche in attacco il punto di respawn perché ho visto che sono stati scelti tre punti di respawn diversi addirittura come vengono utilizzati dipende chiaramente dalla mappa e dal contesto in sé a seconda di dove tu nasci riesci poi ad essere presente appunto in una zona specifica della mappa quanto prima ed è fondamentale perché fa tanto differenza poi a livelli competitivi come questi dove è come un po' come la formula 1 dove sono i secondi che fanno la differenza addirittura in formula 1 sono i millesimi di secondo che fanno la differenza qui effettivamente puoi rischiare di perdere quei 5 10 secondi perché sei nato nella parte sbagliata da raggiungere e quei 10 secondi magari sul lungo andare in un round di 3 minuti si ma rimane il fatto che tu non sai dove è piazzato l'ordigno quindi fondamentalmente lo sai perché tu hai i droni e lo capisci nel senso che puoi cambiare in corso d'opera tu puoi decidere di cambiare sito ah questo non lo sapevo ok puoi cambiarlo anche in corso d'opera tu ne decidi uno inizialmente poi se ti va bene quello lo puoi lasciare lì se no tu vedi che ok no difendono top floor ok cambiamo cambiamo spawn ah mi raccomando ricordatevi di cambiare spawn la frase più detta da Eddie durante la sua vita competitiva bene bene allora la domanda insomma aveva senso no? perché questo probabilmente non l'ho capito io che sono agli inizi del gioco e non ho mai cambiato spawn in corso d'opera bad boy apre lui le danze sul frag su pappa quindi Notorious Legion che quantomeno adesso hanno un uomo di vantaggio per difendere questa posizione quella di cappella attenzione cappella palestra giusto? no no cappella e basta no cappella arsenale perché è quella nel piano più interrato anche se effettivamente il giocatore è in palestra quindi diciamo che ti sei lasciato confondere dalla posizione dei due difensori che stanno giocando molto lontano dal sito è molto probabile attenzione perché qui il gunfight lo vince Jopap qui sbaglia Simo ad andargli incontro veramente troppo veloce sapeva dove era l'uomo e se sai dove è l'uomo ripeto devi cercare di avere una linea di tiro migliore aspettare probabilmente la sua mossa qui gli è corso praticamente in braccio è stato facile per Jopap portarselo a casa 4 contro 4 parità numerica ristabilita e un minuto sul timer manca effettivamente poco e ancora le manguste di sport non sono vicinissime al sito questo potrebbe essere uno svantaggio c'è anche un giocatore di Notorious che non è stato eliminato è ancora in giro a spasso nella mappa e potrebbe fare la differenza in corso d'opera mi sa che è stato eliminato proprio in questo momento mentre ne parlavamo non sono sicuro vabbè è la solita maledizione dei caster ci chiamano gufi non certo per insomma per caso 35 secondi qui eccolo il romer sbaglia qualcosa effettivamente il giocatore delle manguste e sport poi salvo però riporta la situazione in vantaggio per i suoi 3 contro 2 adesso può entrare 20 secondi deve solo sgominare la difesa appunto di un uomo per sito qui andiamo a vedere Thomas Denard inquadrato sta guardando la parte sbagliata noi dall'X-Ray vediamo probabilmente gli uomo gli apparirà alle spalle invece no sceglie di andargli proprio in faccia ed riesce a fraggare due uomini quindi una doppia per Thomas e alla fine i difensori riescono a vincere il round con l'ultimo frag di Bad Boy qui manguste un po' confuse ti dirò tirando un po' le somme a me sembra che le manguste abbiano perso tantissimo tempo in corso d'opera per togliere di mezzo quei romer e non siano riusciti tra l'altro a togliere di mezzo l'ultimo il che probabilmente è stata forse la vera mossa il vero colpo da parte di Notorious però in generale i Notorious sono riusciti finora a vincere solo il sito in cappella arsenale dunque per le ultime due difese che avranno a disposizione prima di dover passare in attacco non avranno più a disposizione appunto l'unico sito che li abbia premiati finora toccherà a vincere altri siti si ritorna di nuovo in cash CCTV nella segreta speranza di riuscirsi a portare a casa io ho paura che per adesso le manguste siano veramente preparate veramente sul pezzo su questa seconda mappa molto più di quanto non siano in Notorious Legion davvero ancora di più tirando un po' le somme magari in una proiezione futura e basandosi anche un po' sulla mappa appena passata forse le manguste avrebbero meritato la vittoria qualora si portassero su un altro appareggio sarebbe comunque un punticino insomma un premio di consolazione di una giornata sfortunata però forse moralmente se la giornata è sfortunata e tu ti porti a casa comunque quel punto non è che insomma vai a letto scontento perché dici cavolo sono stato sfortunato ma nella sfortuna sono riuscito a riabilitarmi appunto a prendere un punto prezioso i zero punti per il gioco che stanno dimostrando veramente gli starebbero stretti perché le manguste mi sembrano davvero molto molto in gamba quindi ecco sarebbe immeritato non fare neanche un punticino in questa in queste due mappe ma andiamo a vedere comunque come si svolge questa questo quinto round sì quinto round dopo la fase di preparazione cash cctv ancora una volta è teatro di azione ma stavolta con un approccio forse offensivo leggermente diverso subito per il notorio di sedice non c'è l'obiettivo di andarsi a concentrare a mettere in crisi il giocatore dentro garage più di prima intanto forse c'è stato di nuovo un crash da parte appunto della l'observer della regia però io credo che la partita sia ancora in essere esatto quello che è successo prima comunque mi fa ben sperare del fatto che non rientreremo a game crashato quindi non sono crashati tutti i giovedoni ma semplicemente rientreremo che ci siamo persi qualche minuto comunque insomma finora è una partita molto godevole 2 a 2 devo dire che bisogna vedere poi quando le manguste difenderanno perché questa effettivamente è la loro mappa sono partiti nel side sfavorito non è attacco prima abbiamo visto che gli attaccanti hanno fatto un round a testa se ne sono scambiato nella fase di difesa quindi gli attaccanti hanno fatto un solo round qui sono già due chiaramente chiedo a te la mappa è un pochino più facile per gli attaccanti senza dubbio ha senso comunque che siano due devono essere tre per andare comunque sul secondo sul side difensivo più sicuri più ti dirò secondo me le manguste già attraverso questi due round vinti in attacco possono andare a giocare bene il side difensivo potrebbero mettere l'imbarca poi sulla fase difensiva no l'imbarca no ne vinci tanti ne vinci tanti vai tranquillo hai vinto quello che ti serviva per chiudere la partita a proprio favore se non altro sulla seconda mappa da quello che effettivamente è diventato oggi Rainbow Six non conta tanto sapere quanto tu sia forte su una mappa a livello difensivo ma in generale quanto tu sia forte su quel sito sia in attacco che in difesa perché la comprensione del sito in sé fa un'enorme differenza lo fa anche quando poi si tratta di doverla attaccare quindi mi aspetto delle manguste veramente sul pezzo anche quando dovranno difendere il cash assist e magari soffrire un pochino di più per quanto riguarda invece Cappella Arselale che presumibilmente fossi in loro io lo giocherei per ultimo letteralmente di questa mappa vedi quante sfumature che riesci a dare veramente con la tua esperienza anche di giocatore competitivo a questo tipo di telecronache perché anche questo giocarsi per ultimo il sito che comunque conosci meno può essere una strategia veramente vincente qui comunque torniamo in telecronaca Thomas Dennard su Jopap sul 3 contro 2 quindi Notorious Legion in vantaggio tra l'altro molto ferito Ribs delle manguste che non riesce anche se autore di un ottimo flickshot a portarsi a casa a nessuno degli avversari Briciola fa una doppia conclude il round siamo 3 a 2 per i Notorious Legion e ci sarà quindi l'ultimo round del side sì qui chiaramente è stato fatto un buon lavoro su Indy Notorious anche per quanto riguarda Caccia e CCTV ma per forza di cose ora si è costretti comunque a scegliere tra palestra o bar e magazzino che Simo potrebbe essere effettivamente la soluzione per quest'ultimo round perché sembrano aver cambiato poi in corso d'opera gli NLE sulla parte finale rischiano il tutto per tutto vogliono il 4 a 2 si rendono conto che Master Bedroom e palestra non avrebbe portato forse nessun tipo di risultato bella la trovata bella anche la soluzione finale di rinunciare ovviamente a Clash per forzare gli avversari a costringere chiaramente a prendere una classe di risposta a Clash quindi Capitão al posto di Buck ma poi mettere invece una classe molto molto più importante come Jäger che serve per forza di cose devi sapere che Jäger è il difensore più scelto in assoluto di tutte le difese competitive non esiste una difesa senza Jäger non esiste qualcosa come il 99% di pick ed è rarissimo che venga anche bannato perché chiaramente non non andrebbe a stare in piedi la difesa senza i sistemi troppi di Jäger Jäger è un operatore troppo importante a livello difensivo ecco questo questa è una bella domanda quindi ci sono degli operatori che evidentemente sono sbilanciati nel senso che servono sempre e in tutti questi anni di patch tweak Ubisoft non è riuscita a molto probabilmente questo dipende dal gadget esatto il sistema trophy nega le granate avversarie quindi nega una bella fetta di utili di avversari in generale tra lancia granate IMP non lo so Ying le candele di Ying davvero mille cose il sistema trophy le nega quindi è un gadget fondamentale per le difese che sennò sarebbe troppo passivo di fronte alle utilità avversarie tanto che spesso e volentieri gli hardebrich se ci fai caso si portano dietro invece della clamor le flashbang perché il sistema trophy ha solo due cariche quindi una volta che tu che quel trophy ha mangiato due granate che si voglia qualsiasi tipo automaticamente si spegne quindi che significa che potete giocare lanciando due flashbang cancellare quel sistema trophy a quel punto lanciare le granate vere qui intanto l'azione delle manguste è davvero perfetta chiamata la posizione di uno dei giocatori salvo poi lo va a eliminare ancora pappa rimane quindi solo un notorious legion in vita e thomas denard con smoke che adesso deve giocarsi tutto per tutto in una uno contro tre che di finire impossibile è poco va tra l'altro aveva cercato un confrago un hs che non è arrivato vanno a vincere così le manguste il round 3 a 3 adesso ci sarà il cambio di side direi che quindi buono tanto di guadagnato adesso forse capisci anche perché è il sito difensivo che nessuno vuole giocare quello di bar e magazzino hanno perso in 20 secondi si è stato un attimo inesistente una difesa inesistente ci hanno provato perché chiaramente non volevano andare di nuovo in palestra e master bedroom forse per farmi un torto dovete sapere che almeno due volte in palestra a settimana ci dovete andare per forza vabbè salvo questa altra battuta infelice fondamentale chiaramente hanno provato a cambiare qualcosa però non è non è non è bar magazzino la scelta giusta per riuscire a portare a casa un punto contro le manguste improvvisare contro un team così preparato come le manguste esports su clubhouse non funziona l'improvvisazione non funziona perché o hai fatto i compiti a casa prima o non ti puoi presentare con qualcosa del genere hanno pagato pegno i notoriosi region perdono un round meditatamente comunque ragazzi ovviamente volevo dire a tutti che a seguire di questa diretta ci sarà il cabaret di Eddie ah pensavo la lezione di personal training sempre dagli studi di Roma cercheremo quindi di scrivere in un attimo lo spettacolo di cabaret con le battute infelici una dopo l'altra le battute infelici lo chiamiamo lo chiamiamo così esatto è bellissimo secondo me guarda abbiamo già conquistato una grandissima fetta di pubblico siamo pronti per diventare i next influencer del futuro della comicità devi sapere che c'è un giocatore della pro league europea dei caos che una volta si chiama Vitolini adesso si chiama solo Vito e quindi nella botte piccola c'è il Vito buono e finché c'è Vito c'è Speranza e così via è così Vito è una Vito di battute quella delle partite con Vitolini in partita comunque io spero di non perdere il mio posto di lavoro dopo questa serata detto questo andiamo a continuare il commento adesso dobbiamo vedere come i Notorious Legion cercano di attaccare la mappa se ci sono chiaramente delle differenze strategiche rispetto a quello che abbiamo visto fare dalle manguste e esport già comunque sia vedo che qualche indifferenza c'è anche se il punto per la breccia è il solito lì dietro tra l'altro c'è un uomo loro non lo sanno questa carica esotermi no scusate è una dinamite texana giusto è una carica di termite termite in italiano sì ovviamente è una combinazione tra piombo e non so quale insomma esplosivo mi si crede plastico c4 comunque il primo frag è suo su salvo quindi libera una zona da uno dei difensori insomma manguste e esports che si devono raggruppare devono cercare chiaramente di mettersi bene sul sito ma Petru gli dà una mano quindi 4 contro 4 adesso ristabilita la paratona numerica 1 e 41 hanno tempo in Otorius Legion di arrivare sul sito ne hanno anche tanto ma Pappa sempre da parte delle manguste e esports adesso invece riesce a portare in vantaggio i suoi 4 contro 3 effettivamente manguste che sembrano davvero molto preparate sulla loro mappa hanno vento 3 round in attacco e qui in difesa stanno dimostrando di essere molto molto coesi andiamo a vedere le informazioni che il drone di Bana cerca di andarsi a prendere e qui insomma abbiamo un uomo dei Notorius Legion proprio sotto al sito occhio però perché arriva il frag da parte di Not Dark subito il trade però effettuato da Pappa quindi non c'è la parità numerica per quanto riguarda gli uomini rimasti ancora 3 contro 2 tra l'altro è stato scelto il sito difensivo tra i più deboli degli avversari quello appunto di Master Bedroom e Palestra appunto ne avevamo parlato prima tra l'altro è tenuto sotto controllo perfettamente da parte appunto delle manguste che fino a poco fa erano in un 3 contro 1 adesso c'è rimasto solo Dark per gli NLE 2 contro 1 di tirare fuori ovviamente un round è difficilissimo la classe è difficile andiamo a vedere se Dark ce la fa attenzione perché ha visto un uomo laddiero però parte una granata che lo ferisce un po' e non riuscirà infatti a portarsi a casa nulla probabilmente avevano anche i difensori hanno visto la sua posizione e quindi insomma nulla di fatto era stato chiamato nella zona di cantiere anche perché aveva appena ucciso un loro compagno quindi non avrebbe avuto il tempo per ruotare altrove doveva per forza di cose giocare e ha cercato il push diretto perché anche il tempo non era dalla sua non mi sembra che avesse in tasca nemmeno il defuser quindi era letteralmente da gestire quasi fosse un toro dritto per dritto cercando di portarsi a casa un round quasi impossibile insomma anche perché gli avversari sembrano decisamente sul pezzo l'hanno chiuso molto molto bene Manguste che di fatto meritatamente riescono finalmente a portarsi in vantaggio attraverso le proprie difese chissà se continueranno in questo senso Cash e CCTV come seconda risposta quindi proprio voler piantare bene le radici tra l'altro radici di pappa che saranno veramente difficili da estirpare nella zona di garage chiaramente la classe di dock è fondamentale proprio per quella posizione un pesante in generale con l'agoga è fondamentale ma il dock forse riesce ad essere la classe migliore possibile in quello spot come mai per l'arma prima di tutto perché è un'arma molto precisa equipaggiata di agoga quindi è perfetto per lunga distanza e soprattutto per sparare attraverso le varie peritoie della ringhiera per gli angolini ci passano i proiettili lui li riesce a vedere molto bene attraverso la porta e quant'altro ma soprattutto perché non muore mai a disposizione la siringa che si può sparare autonomamente addosso quindi recupera 40 punti vita ogni siringa di fatto lui potenzialmente può arrivare ad avere 120 più 100 quindi 220 punti vita per un pesante fidatissimo che sono veramente tanti mi fido se ti sparano poi solo ai piedi e quant'altro a parte che sei grosso enorme quindi qualunque cosa dici e tocca è grosso quanto a me quindi più o meno è difficile da ammazzare quanto a me come logica siamo su quello stesso punto di vista ma attenzione perché c'è no ok sta rientrando in effetti sta ritornando proprio su passerella un po' in ritardo le manguste se posso permettermi ha rischiato qualcosina qui il giocatore proprio appunto manguste esports MNG ti faccio una domanda ma fondamentalmente sono ormai standardizzati le vie di accesso degli attaccanti o ogni volta squadre preparate che riescono chiaramente tra chiamate selezioni operatori eccetera riescono ogni volta a trovare delle fasi dei punti di attacco diversi allora non sono tante le strade da percorrere quindi cioè quelle migliori sono comunque sempre le stesse sì bene o male non ci sono tantissime strade ma ce ne sono puoi scegliere comunque come approcciarti ci sono fondamentalmente per esempio per questo sito in particolare due approcci chiave uno è chiaramente quello di andare alla breccia come puoi notare della stanza di CCTV e magari anche di andare a conquistare la zona di garage l'alternativa sarebbe prendere possesso di costruzione magari aggredire appunto dall'altro lato e fare strada poi verso cache qui bellissima l'azione del giocatore di Mangusta che però invece viene fraccato da Bad Boy si era trovato aveva fatto insomma si era trovato a mettersi proprio nella breccia a vedere chi c'era là fuori sembrava veramente in completo controllo poi si è spostato è stato anche un po' sfortunato nel momento esatto in cui passa il giocatore avversario che è riuscito a trovare il frag che comunque porta la situazione solo in parità numerica visto e considerato che prima Pappa era riuscito a eliminare un giocatore di Notorious Legion quindi 4 contro 4 bomba trovata in questo momento tanto comunque insomma a questi livelli sanno non è che devono trovarla col drone o comunque vedendola sanno esattamente dove devono però chiaramente il gioco ci avvisa che comunque è stata trovata qui vediamo in azione un drone di Simo di Thermite che è andato a spottare un giocatore che viene subito eliminato quindi probabilmente un'ottima chiamata da questo punto perché ha chiamato a qualche compagno la posizione del giocatore subito però trade effettuato ancora 3 contro 3 35 secondi ora Manguste e Esport che sono quindi in vantaggio in Notorious Legion che si devono sbrigare guarda proprio Pappa che è lui l'uomo chiave di questa difesa perché sta facendo una differenza enorme ha ucciso 3 avversari per toglierlo di mezzo ci hanno buttato via un round intero i ragazzi di Notorious Legion e probabilmente ce lo stanno anche perdendo tra l'altro qui Dark sta pestando l'impossibile veramente le mille maledizioni che avrà tirato contro le Gu di Desion in questo contesto dovrebbero essere finite Rips su Thomas Dennard 2 contro 1 adesso però i secondi sono troppo pochi basta prendere tempo alle Manguste e Esport ma in verità vanno a vincere con questo colpo i fucili a pompa il round eliminando tutti gli avversari Manguste davvero preparatissime per ora non possiamo dire altrimenti non hanno perso neanche un round in difesa e sono 5 a 3 quindi due round guadagnati adesso vanno a vedere se riescono a vincere quello che li porterà sui sicuri overtime intanto avevo visto bene conosco forse questi giocatori un pochino arriva Cappella Senale ma solo come terza difesa ultima possibilità per le Manguste per voler fare anche full hand play non ho quasi a dire vi battiamo su tutti i siti possibili di papabi di clubhouse vincessero anche Cappella Senale automaticamente sarebbero in una condizione di appunto map point stavolta non mi freghi più e poi avrebbero 3 round per chiuderla velocemente ricominciando poi ricominciando quel giro però devo dire che i Notorious Legion non è che mi stanno dispiacendo troppo comunque loro lo stanno facendo arrivano sempre allo scontro finale in cui manca uno due uomini delle Manguste quindi non mi sembrano difese incrollabili ecco mi sembra che i Notorious Legion possono farcela però effettivamente forti appunto della difesa o comunque forti della mappa scelta da loro le Manguste stanno giocando perfettamente stanno interpretando questa partita nel migliore dei modi ma sì ma poi ci sono delle posizioni che sono state veramente ben giocate io lo ripeto per me il round precedente l'ha vinto Pappa perché quando fai 3 kill e mantieni il controllo della partita pur avendo perso magari qualche compagno di squadra e soprattutto mantieni il controllo di garage e continui a negare quel possibile inserimento appunto dagli avversari significa che tu hai non solo fatto il tuo lavoro hai fatto anche il lavoro dei tuoi compagni di alcuni tuoi compagni che sono morti in corso d'opera quindi lì grande merito da parte sua ma grande merito da parte delle Manguste in generale avere una grande comprensione di questa mappa forse un pochino di più dei Notorious Region questo c'è da dirlo insomma hanno saputo giocare bene sulle posizioni giuste saperle far valere fino alla fine andiamo a vedere che comunque i Notorious Region con Briciola già erano arrivati a vedere l'interno di Clubhouse quindi sono portati a 2 minuti e 30 già a vedere la situazione all'interno della casa se c'è un round che i Notorious Region possano vincere è proprio quello di Cappello Arsenale perché è quello dove loro si sentono più confident anche in difesa quindi esiste la possibilità che magari riescano a demularsi magari anche in attacco quindi se c'è un round certo quali sono i punti deboli della difesa visto che considerano che loro difendono bene questo tipo di punto andiamo a vedere comunque l'azione di Briciola adesso inquadrato si passa invece a Not Dark utilizza IQ oh ho fatto acidecca la caricata freccia mi vale un po' male Dark bello questo tempismo qui è fatto a breccia esattamente quando la breccia distrugge la botola viene tirato un drone per vedere dove sono i difensori avversari però il tempo è poco a 1.18 non è caduto nessun uomo delle manguste e ora in Notorious Legion sentono il fiato sul collo il tempo che appunto scorre e il defuser che deve essere piazzato Pappa è suo il primo frag su Briciola uno dei migliori dei suoi quindi già eliminata una minaccia molto importante Thomas Dennard però ristabilisce la variata numerica e poi Jopap ancora su Simo quindi in vantaggio adesso in Notorious Legion ma di nuovo 3 contro 3 un round davvero spettacolare gioco da altissimi livelli da tutte e due i team che ripeto si stanno affrontando davvero a viso aperto in tutta la partita qui però questa difesa si vince attraverso rimanere in vita per ovviamente le manguste e forse un po' sul finale si stanno un po' perdendo per strada queste morti inutili in corso d'opera che non ci stanno per niente da parte dei due tedeschi appunto dei due operatori tedeschi si sarebbero potute risparmiare qua lo scontro a fuoco è tra salvo e un giocatore di Notorious Legion gli arriva proprio pregente in faccia tramite la botola un altro giocatore qui è ottima la chiamata da parte dei Notorious che infatti si vanno a vincere questo round come aveva predetto il nostro Eddie Adamus l'oracolo ha parlato caro Simo l'oracolo ha parlato vabbè diciamo che Notorious Legion sono stati bravi però forse le manguste un po' approssimative se da una parte posso dare del merito chiaramente in Notorious Legion c'è tanto da criticare alle manguste per la prospettiva da parte di soprattutto Gioppa che si è letteralmente suicidato c'è stato anche un altro giocatore forse credo fosse non so se Rips o Pedrusca con Jäger con Bandit entrambi i giocatori con gli operatori tedeschi hanno buttato via la propria vita e hanno messo la partita in crisi forse era salvo forse era salvo però mi ricordo salvo fosse con eco mi pare strano allora si ritorna se non altro sui siti difensivi migliori di nuovo cappella no scusatemi non cappella arsenale ma appunto palestra e appunto master bedroom da qui in poi sono i round buoni per le manguste e chiuderla lì comunque anche questa seppur controllata magari appunto dall'MNG sempre combattuta come partita perché stiamo sempre parlando di una partita comunque sul 5 a 4 quindi no ma infatti ripeto entrambi i team si sono ma non solo tutta la partita che poi prima è finita l'overtime di un round in 5 contro 4 ma proprio tutti i round finiscono con l'ultimo caricatore l'ultimo uomo e roba di questo tipo quindi una partita davvero molto molto equilibrata Rainbow Six riesce comunque sia ad essere così quindi a proporre sempre uno spettacolo di altissimo livello dove è difficile vedere un total ownage al di là del fatto che insomma esistono delle situazioni di questo tipo esistono team più preparati di altri molto più preparati di altri però quando il livello è simile poi la partita è sempre molto gradevole e si chiude davvero agli ultimi round vediamo se le manguste invece sapranno smentirmi e riusciranno dal 5-4 a passare al 7-4 adesso possono difendere un sito che hanno già difeso e che quindi probabilmente hanno vinto in precedenza e vediamo se lo riescono a rivincere vi ricordiamo che questa è solo la prima partita di oggi ragazzi al termine di questa ci sarà una piccola pausa e poi si partirà appunto con Airflow Gaming contro Team Amelia secondo match in programma per stasera ci sono anche due partite in realtà off stream che sono appunto gli Outplayed contro gli Evolut Gaming e i IGP appunto la squadra di Dangerous in organizzazione degli IGP contro i Cyberground Gaming e entrambe le partite appunto saranno off stream ma sapremo darvi i risultati delle stesse assolutamente vero quindi continuate a seguire la live se volete appunto sapere sono in corso sono partite alle 8 loro come si svolgono le altre partite perché comunque durante la live daremo aggiornamenti sull'intera giornata alla fine della live sapremo tutti i risultati e quindi come si delinea la classifica dopo al termine della prima giornata di campionato questo ripeto è il campionato playstation ufficiale di Rainbow Six Siege ringraziamo Euronix Sony Ubisoft non in quest'ordine anche in un altro ordine per far contenti tutti ovviamente qui i Manguste che avevano cominciato con il primo frag sbilanciando quindi l'attacco di Notorious Legion ma che adesso si trovano a difendere 3 contro 4 quindi Notorious Legion sono molto molto bravi per ora e bisogna vedere se riusciranno ad andare al plant al solito manca poco tempo un minuto quindi gli attaccanti si devono un po' sbrigare questo drone non trova i difensori nelle posizioni quindi non ottiene grandi informazioni ma probabilmente tutti sanno che qui sbaglia la granata doveva entrare all'interno della porta doveva distruggere la porta doveva distruggere la porta adesso cerca prendere la cazzotti quindi ci vorrà più tempo e il tempo non è amico dei Notorious Legion mancano 30 secondi alla fine del round qui ma come ha fatto a sbagliare questa kill salvo era pronto preciso aveva mirato doveva solo far fuoco purtroppo non è riuscito a tenere il frag lascia da solo il suo compagno Pedro contro 4 adesso il defuser viene piazzato in questo momento quindi Pedro tra l'altro che era in fase di roaming al piano di sotto difficilmente potrà andare a riconquistare la situazione infatti viene ucciso sulle scale Notorious Legion che si riportano sotto dal 5 a 3 al 5 a 5 in attacco quindi wow sì 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 ottimo quello che forse non abbiamo notato in corso d'opera ma che effettivamente potrebbe essere insomma oggetto di qualche parola in più è che i Notorious Legion sì è vero hanno perso magari qualche round in più in attacco durante appunto le prime istanze difensive delle manguste ma intanto hanno fatto il punto delle difese avversare quindi hanno tratto le conclusioni del caso in questa seconda esecuzione nello stesso attacco si sono presentati molto più preparati c'è stata una qualità in generale da parte di tutti i giocatori molto più interessante si è visto anche un po' di stanchezza perché anche quella comunque non è venuta a mancare per esempio Briciola che toppa palesemente sulla granata sicuramente non è stato forse l'esempio migliore da prendere come riferimento però intanto lo stesso Briciola poi si fa perdonare attraverso un inserimento con un'aggressività fenomenale ed è sempre lui comunque a fare delle uccisioni comunque la sua forma d'arte infatti è riuscito comunque ad uccidere diversi avversari a creare quel contesto per il plant ha fatto veramente un bel lavoro su questo attacco arriva la difesa più solida delle manguste continuano a girare perché chiaramente non si sentono più sicuri nemmeno su palestra e master bedroom ma qualora vincessero appunto qui toccherebbe per forza di cose scegliere qualche altra qualche altra difesa 5 a 5 e qui è tutto di nuovo aperto 5 a 5 è molto dura perché comunque lì lo senti il fiato sul collo sai che sei in difesa sai che sei avventaggiato sai che la tua mappa ovviamente ti dispiace aver persa in quel modo quella prima non vuoi assolutamente andare agli overtime perché tu questa mappa la vuoi portare a casa legit senza problemi e adesso invece sei costretto un pochino un pochino molto comunque a impaurirti adesso è tutto nelle mani di Notorious Liger se riescono a tenere salda la testa la comunicazione e tutto quello che un player insomma deve avere per giocare a questi livelli secondo me la vanno invece a vincere perché hanno l'inerzia il momentum dalla loro parte dovrebbero trarre in salvo questa partita si l'ho detto respira Simone respira salvo il giocatore delle mangustiche allora continuiamo quindi a seguire il game attenzione c'è stato ah no forse non ho capito bene se no 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 perdonatemi ho letto male io la giocata perché la granata ha sporcato la visuale del giocatore ma solo forse nella nostra visuale in quella avversaria qui Pedro letteralmente fa come vuole per le cariche da breccia perché il suo avversario ha giocato molto male al pieno di sotto non c'è stata quella Zofia quella lancia granata di Zofia a far la differenza e anzi è morto in corso d'opera oltretutto ha tirato maissimo il primo lancia granata e a questo punto le manguste si ritrovano in netto avvantaggio per un grave errore in Dottorio Seligion Slimo però un po' la situazione Simo scusate la situazione cerca di recuperarla 4 contro 3 adesso manguste e esport che hanno assolutamente vedono molto da vicino la possibilità di raggiungere questa la vittoria di questa mappa se riuscisse a vincere questo round si porterebbero appunto sui 6 round vinti che significa overtime al 100% 1.13 sul timer e Notorious che sono vicini al bomba lo potete vedere qui dall'esterno del tetto centrale del piano terra però ancora non sono entrati fanno breccia in questo momento Thomas Dennard davanti a due uomini in verità davanti sono a destra quindi lui non vede nessuno e sta continuando a cercare di mirare alla ricerca disperata di informazioni sul posizionamento dei suoi avversari perché ha 45 secondi per effettuare il plant insieme ai suoi compagni rimasti vivi invece uuuuh Quassimo bravissimo a portarsi a casa di Pedro in HS quindi 3 contro 3 Manguste adesso che devono cominciare a temere il nemico qui bravissimo ancora Thomas Dennard sapeva probabilmente che il giocatore Rips fosse là dietro e si è portato a casa il frag in maniera davvero convincente ancora Thomas Dennard lui una doppia potrebbe addirittura andare a chiudere in tripla e Notorious Legion che probabilmente si porterà in vantaggio tutto nelle mani di Jopap l'uomo che aveva aperto le danze col suo primo frag ma che adesso è costretto a inseguire no non devi passare da lì c'hai praticamente un uomo là dietro il la bomba scusate il defuser sta per disinnescare la bomba arrivano i colpi in una posizione troppo difficile vediamo se se lo porta a casa Jopap si riesce a fare uno contro due il tempo è pochissimo la bomba ticchetta manca davvero pochissimo tempo a Jopap e alle speranze delle manguste che vengono messe a tacere così da Thomas Dennard che chiude quindi la tripla bravissimi i Notorious Legion Thomas e Simo hanno fatto un round pazzesco veramente super ma anche Simo perché lì hanno giocato insieme sono riusciti in una breccia impossibile avevano perso due giocatori in corso dopo avevano perso Briciola che finora è stato forse uno dei più performanti di tutta la partita perché si sente la stanchezza di Briciola e sul lungo andare effettivamente forse un pochino di sovrapprezza lo stanno pagando anche per questo i ragazzi di Notorious Legion bravissimi perché battono e spugnano la difesa più solida degli avversari quella di Cash e CCTV attraverso un gioco fenomenale attraverso un antifragging devastante Thomas dice ok io sono Thermite devo diventare Fragmite nel gergo tecnico si usa spesso nella community dire così ovviamente è l'Hard Breacher che si sostituisce prende in braccia il fucile e dice ok è ora che comincia a fare qualcosa anche io perché se no qui non riusciamo vivi bellissima la giocata bravissimi Notorious Legion qui si è vista tantissima qualità dei giocatori a livello individuale a livello di squadra saper fare insomma la differenza quando ormai sembrava praticamente tutto condannato perché tirando un po' le somme la partita cioè quel round sarebbe andato malissimo per Notorious anche perché la breccia ormai era impraticabile e invece non si sa in che modo riescono a tirarla fuori e oltretutto riescono a fare un inserimento bellissimo veramente bellissimo davvero un bellissimo round Notorious Legion attraverso questo colpo gobo hanno addirittura la possibilità di chiuderla qui attraverso gli attacchi e già hanno l'opportunità di fare 4 round in attacco però l'hanno fatti 3 3 erano quelli che hanno fatto le manguste prima quindi a meno che non dovessimo arrivare un'altra volta agli overtime questa volta il 5 contro 5 Notorious Legion che potrebbero portarsi a casa davvero la mappa l'ha chiamato colpo gobo ma effettivamente ragazzi sono preparatissimi i giocatori di Notorious Legion l'avevamo detto una org e un team presente sul panorama console da tantissimo tempo e stanno dimostrando la loro esperienza la loro coesione di squadra soprattutto non si spaventano diciamo che se le cose vanno male di solito poi vanno male al nastro mentre invece l'effetto palla di neve no? l'effetto palla di neve esatto invece i Notorious Legion sembrano proprio aver essere riusciti a non fare questo ecco bravo qui a inserirsi con un drone a vedere a non farsi uccidere il drone dal primo nemico quindi sa perfettamente la posizione degli avversari bella questa posizione di capitale molto bella qui Pedro non può fare nulla infatti la breccia avviene sa dove sono o almeno dove erano qualche secondo prima i nemici Thomas Dennard che ha giocato un round straordinario precedentemente ma in generale tutta la partita sta giocando davvero bene arriva il primo uomo davanti ma questa volta gliel'ho gufata scusa pappa se lo porta a casa tra l'altro un HS molto preciso sempre lui alla guida di Doc che come ha detto come ci ha fatto sapere prima Eddie è molto importante soprattutto perché può autoiniettarsi queste siringhe che lo ricaricano e quindi ha disposizione più vita degli avversari qui però lascia il campo di battaglia uno degli operatori più importanti può essere la chiave di lettura quindi di questo round grande bad boy Jopap però dall'altra parte è fuori B c'è l'attenzione a questo scontro che poteva avvenire poi leva la mira un po' spiegabilmente il giocatore alla guida di Ibana e perde Rips se lo porta a casa adesso è un 2 contro 4 e adesso è dura per Not Dark e il suo compagno di squadra si paga la stanchezza Simo si evince tanta tanta stanchezza la Donutarius Region anche su queste smiratine no? su questi insomma colpi sbagliati Simo deve letteralmente effetti lì non è stata tanto una versione di colpi sbagliati hai mirato nel punto giusto per tutto il tempo e non si sa perché a un certo punto hai deciso di andare via quando potevi continuare a mirare quel punto c'era ancora tempo non avevi fretta tra virgolette occhio però perché qui mentre io mi perdo in chiacchiere poteva succedere qualcosa di strano invece saranno overtime overtime tra l'altro che vedono comunque difendere per il primo round le mangoste che sono quindi nella posizione opposta agli overtime che abbiamo visto precedentemente si trovano ripeto a difendere per primi poi ci sarà lo switch il cambio side dovranno attaccare e poi potranno difendere l'ultimo round quello fondamentale quindi se prima sono stati avvantaggiati i Notorious adesso sono avvantaggiati le mangoste anche se ripeto su questa mappa sempre dal mio dalla mia onesta neofità si dice no non si dice neofismo neofitismo l'essere neofita dal mio essere neofita noto che comunque questa mappa in attacco permette molto più insomma molto più spazio si più spazio di manovra c'è più possibilità di poter guadagnare tanto il problema è che i ragazzi dei Notorious Legion da una parte mostrano una grandissima qualità anche individuale però peccano chiaramente forse un po' in stanchezza è anche vero che insomma sono circa due ore e quaranta che si stanno tanto di santa ragione sono due team molto preparati sono due mappe complesse come tutto il competitive di RSA in generale ma insomma questi due team stanno dando veramente il massimo per riuscire a portarsi a casa ognuno il proprio punto avendo vinto la prima mappa forse i Notorious Legion non ci tengono magari chiudere in positivo per andare con più tre punti che sarebbe per loro una condizione ideale lato Manguste chiaramente vincitori morali forse della prima mappa sperano perlomeno di un punticino come premio di consolazione vediamo un po' se ci riusciranno nel complesso a questo punto mancano solo gli ultimi potenziali tre round ce li siamo visti tutti comunque i round di questa partita veramente da dire che 30 round potenziali erano possibili almeno 29 li vediamo sicuro probabilmente anche il trentesimo perché visto e considerato insomma come sta andando questa partita direi che è abbastanza pronosticabile sono curioso soprattutto di questa difesa al piano di sotto del Manguste pur avendo tutti i siti difensivi di nuovo a disposizione devi sapere che quando si passa poi in overtime in realtà puoi scegliere tutti i siti difensivi ancora una volta quindi si azzera completamente il parametro rotazione obiettivo poi chiaramente però si va risommando il round che vinci se lo vinci in difesa da qui la scelta di andare a difendere nel piano più interrato forse un po' per stupire gli avversari e andargli a mettere insomma a rompergli le uova nel paniere con una logica di classi che sono sicuramente inadatte perlomeno parzialmente perché si aspettavano probabilmente la difesa in un piano superiore non in questo settore tant'è vero che portano con sé Capitao classe chiave per aprire alcuni siti ai piani superiori anche perché manca Zofia mancano un po' di cose l'abbiamo mai vista Zofia? sì 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 l'abbiamo vista l'abbiamo vista l'abbiamo vista da parte di Briciola ha giocato molto male però l'abbiamo vista purtroppo è stata forse bocciata Briciola con Zofia è per questo che non la vediamo più e gli si lascia magari qualche altra classe legata magari ad una logica di insomma performance non ottimali e la stanchezza purtroppo si sta facendo sentire in alcuni giocatori comunque Notorious Legion che a 1 minuto e 20 sono ancora cioè non sono lontanissime che lo vedete il sito è lì dietro però ancora non hanno cominciato le giuste operazioni di manovra per appunto fare breccia e avere le linee di tiro giuste per andare a passare il defuser manca un minuto e le Manguste e Ispor sono ancora tutte intatte nella loro posizione adesso chiaramente Notorious Legion che si devono un po' sbrigare Pedro è il primo frag su Not Dark poi Pappa su Briciola 2 HS quindi per le Manguste e Ispor che adesso si trovano in vantaggio hanno distrutto in un attimo tutta la squadra di Notorious Legion noi non abbiamo neanche potuto vedere il frag perché è stato fatto lontano dall'uomo che stavamo seguendo ora rimane Simo contro 4 è difficile se non impossibile cade quindi e la difesa delle Manguste funziona adesso il round in attacco da parte delle Manguste mi aspetto veramente che diano il tutto per tutto andiamo a vedere se dagli operatori scelti anche insomma questo tipo di strategia verrà confermata no? più che altro sono stati brevi perché hanno scelto una difesa differente per fregare gli avversari ha funzionato e hanno veramente battuti con l'intelligenza c'è da dirlo adesso però ovviamente mi tocca farlo anche in attacco sui Notorious Legion in realtà abbiamo pochi dubbi su cosa andrebbero a difendere inizialmente appunto Capel Arsenale perché è la difesa che funziona meglio ha sempre funzionato mi sembra che non abbiano mai persa non mi ricordo adesso abbiamo visto così tanti rando giocati che ho perso il conto persino io ma ovviamente Pedrusca e compagnia sanno per certo che i loro avversari difenderanno in capa l'arsenale come lo so io lo sanno anche loro sicuramente avranno progettato un approccio offensivo proprio preciso tanto è vero che portano il doppio hardbreacher portano appunto anche Twitch con la prospettiva forse di bruciare anche qualche gadget strada facendo nella prospettiva chiaramente di velocizzare un determinato inserimento quello che non si è visto mai giocato in questo in questo sito in attacco è un approccio dalla zona di cantiere quello che vediamo adesso blindato da parte di Briciola questo che ci sta facendo vedere la regia questa zona qui non è mai stata mai aggredita vuoi o non vuoi proprio perché è stato tolto appunto montagne eliminato montagne in effetti quell'approccio offensivo viene come bocciato anche se in realtà secondo me è ancora fattibilissimo tuttavia i team non piace semplicemente ok non c'è montagne io lì non ci vado non ci voglio andare vediamo se stavolta le manguste invece ci sapranno sorprendere brutto sintomo però lato manguste perché vanno bruciando 4 droni su 5 nella fase preparatoria quindi anche da parte loro si vede comunque un po' di stanchezza c'è qualcosa che sarebbe da corragione come hai detto tu stanno giocando veramente tutti i round a disposizione se vincono adesso le manguste saltiamo un round di commento e le partite sono state appunto giocate fino all'ultimissimo momento quindi direi che un po' di stanchezza è insomma un bel battesimo del fuoco natural beh sì per me assolutamente è così eh dicevo vai arrivi tranquillo comodo comodo 7 a 1 e vai a cena no no ore 20 e 53 e ancora c'è una partita al insomma al nostro campionato playstation ma è questo il bello dell'eSport in verità è quello che insomma speravo che mi piace commentare delle partite combattute occhio perché pappa il primo frag è il suo quindi manguste vicine effettivamente a chiudere questa partita qui vediamo se succederà proprio questo attenzione altro frag però questa volta è da parte di briciola su job quindi 4 contro 4 adesso sono un po' saltati gli schemi perché ho visto comunque operatori un po' fuori posizione soprattutto quelli di attacco tra l'altro mi mi stupiscono andando a bruciare proprio ad abbreciare proprio il muro di di cantiere quindi è successo quello che chiedevo anche se appunto non c'è montagna a disposizione vanno comunque aprendo quel muro quindi ci sarà forse un inserimento da quel lato se non altro la necessità da parte di difensori di mettere un occhio di riguardo in più su quel settore perché c'è sempre il rischio che qualcuno possa inserirsi da quella zona attenzione perché potrebbe arrivare un attacco completamente da vero arsenale se non fosse per salvo che è sceso dalla botola da tutta altra parte però pappa continua a fare il bel effettivo tempo decide lui di questa partita sì l'HS su Bad Boy sbilancia di nuovo i valori in campo 4 contro 3 qui salvo riceve un frag da Thomas Dennard che probabilmente non si aspettava era comodo comodo a cercare di levare quella porta poi Simo porta invece in vantaggio il notorio Sligion probabilmente li vedremo tutti questi round caro Eddie 3 contro 2 adesso Manguste che devono attaccare quindi in inferiorità numerica passano dal cantiere e lì dietro proprio c'è un uomo attenzione Pedro difende il sito proprio dall'ordigno da vicino all'ordigno qui da sotto da sopra verso sotto è facile ottenere la kill ma niente da fare in vantaggio Sligion che vogliono giocare tutti i round possibili vincono quindi questo penultimo round di overtime e adesso si giocherà per l'ottavo talmente infervorato Pedrusca che decide di rilacciare il paliaturio 5-4 pur avendo un compagno nella stessa zona fa saltare in aria tutti e due non mi interessa deve morire chi se ne frega ma c'erò chi non me ne frega niente muori anche tu difesa è scelta stanza delle camere stanza del bottino ebbè per forza per forza di cose perché hai vinto in cappella senale ti tocca spostarti altrove cash cctv però è stata molto valida per le vanguste potrebbe essere un buon spot per loro certo io condivido pienamente questa filosofia anche perché comunque mi è sembrata più solida rispetto a palestra e master bedroom lì un pochino di vacillamento anche per gli MNG c'è stato vediamo un po' come si va concludendo chiaramente dal lato offensivo sembrano essere le stesse identiche classi doppio art breacher toucher capitao e no c'è ash però c'è ash quindi un pochino più di velocità e chiaramente lanciare una granata chiaramente dal piano di sotto per creare forse per impedire a pedrusca di fare il gioco delle batterie chissà se ci riuscirà occhi puntati ovviamente per pappa grande giocatore forse un grande eroe di questo match perché lui sulla passarella di garage è stato fondamentale e forse lo sarà anche per questo round fossi nei notorious region io no si si sono loro a dover attaccare gli tirerei di tutto persino le ciabatte sopra quella passarella provando chiaramente a toglierlo di mezzo magari qualche freccia di capitola la terrei più per il giocatore su passarella piuttosto che per andare ad abbrecciare del muro di 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 CCTV che può arrivare anche dopo perché una volta che tu hai preso garage automaticamente dopo puoi permetterti di aggredire il bandit della situazione che sta difendendo che sta piazzando le batterie lì quindi automaticamente è una diretta conseguenza aver conquistato garage ti permette anche di brecciare forse però le manguste no scusami nella fretta prediligono più la breccia piuttosto che andare a uccidere il giocatore in garage vediamo se stavolta avranno fatto tesoro dei propri errori qui non andiamo a seguire il drone che fine fa sarebbe stato invece interessante vedere se i Notorious riuscivano a scoprire qualche posizione qui grazie all'X-Ray vediamo noi che ci sono proprio uomini dietro a questa zona freccia di capitale ho tirata perfettamente quindi impedisce all'uomo in difesa di difendere quella breccia che viene effettuata adesso ai Notorious Legion due minuti sul timer e chiaramente insomma tutto il tempo del mondo per la squadra in attacco tanta tensione comunque sono tutti terrorizzati perché qui è l'ultimo round perdere questa vita tutto all'ultimo round e chiaramente entrambi sono stanno giocando per non perdere non per vincere ma per non perdere eh già tanta tensione che c'è tanta differenza nel giocare per non perdere rispetto a giocare per vincere eh momento abbastanza criptico eh chiaramente questo avvantaggia i difensori perché più passa il tempo ogni secondo che passa comunque i difensori sono avvantaggiati occhio perché capitava proprio un uomo là dietro potrebbe andare al frag qui viene eliminato il drone Thomas Dennard che aveva effettuato questa breccia almeno un minuto fa credo e poi non si è mosso da lì sta cercando di andare a trovare informazioni che non arrivano i suoi compagni pappa lo trova proprio in un pixel io non ho sempre lui neanche visto quale parte del corpo è riuscito a colpire con questa spraiata eh sì ma è sempre pappa il grande roe di questa difesa sempre è stato lui a fare la differenza ancora adesso di nuovo ad aggiungere pressione sul team avversario che dovrebbe essere quello in attacco qui ottiene il frag il giocatore briciola che ha capitato ma ormai muoiono uno dopo l'altro i giocatori di Notorious Legion e le manguste 4 contro 1 vanno a fare quello che fondamentalmente avevamo predetto è anche quello che era giusto probabilmente difficile che NotDark in 20 secondi 1 contro 4 tra l'altro è fuori insomma dai giochi riesca a vincere questo round quindi manguste e esport che si portano dopo una partita appunto giocato fino all'ultimo round sull'1-1 NotDark comunque si porta a casa un frag di consolazione però lo cercano e finisce qui con lo scadere del tempo NotDark che si leva un'altra soddisfazione con un bel HS su Jopap Manguste e Esport 1 Notorious Legion 1